Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono TheBunnerTube e oggi siamo super done Oh, ma porca puttana lag Allora, scusate, c'ho un po' di tozze ma passa passa Comunque ragazzi, faccio un video così a random perché in questi giorni sono impegnato Comunque, dall'ultima volta, no, non l'hanno aggiornato mi pare Però è molto più bello Verdan da quando, la prima volta che ci ho giocato è stato il 2013 E, beh, era un bel gioco però non dettagliato come così, è molto più bello adesso Io direi di cambiare squadrina Chiediamo a questo se ci fa il switch E una cosa che ho visto molto è che la... il... com'è che si chiama ragazzi? Ecco qua Il... il coso preferito dei... ma lasciamo stare, vaffanculo Non mi viene in mente la parola E... il ruolo preferito delle persone è il mitragliere Che sinceramente... non è che sia molto bello e comodo E' bello se sei nella prima fase, cioè quella con il fucile Però non è comodo quando c'hai la mitragliatrice in mano Eccoci qua, questi Aspettiamoli Oddio, oddio, granata Forse... no, ho sentito... dai, 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 dai Allora Andiamo se c'è qualche... no Perfetto Allora, andiamo al contra-attacco Belly Ci tocca mettere la nostra maschera anzi Allora ci moriamo male Con questa maschera non si vede veramente nulla Nulla più completo Eh, lo sapevo Eh, ci stanno chillando troppo, ragazzi Dobbiamo... Eh, cecchinare un po' di più Eh, andiamo nei canadesi, dai Perfetto, perfetto Eh, il gas in culo me lo manda, porca puttana Oddio Allora Allora, questo che campera Allora, chiediamo di Farci il fuciliere Non ce l'ho accettato, vabbè Prendiamo lo stesso all'attacco Eh, lo sapevo Lo sapevo Il mio filo spinato, come avete detto Nello scorso video È il mio migliore amico Stronzo Ok, perfetto Oddio santo Oddio santo Mi hanno colpito ma non sono morto Non so se era un bug o mi hanno colpito da... Oh, cazzo Sucate Vabbè, vabbè Ci hanno, ci hanno sfrumato l'ennesima potenza Cioè, tipo, abbiamo lanciato la granata tutti e due Ragazzi, il nemico Cos'è successo? No, cos'è successo? Vabbè, mazzacchio data Figa Allora, vediamo Sfandiamo sul fianco destro Sempre se ci riusciamo Bombardamenti che rompono le chiappe I glutei Uh, uh, uh Attenzione, attenzione Non colpiteci Bravi, bravi Tesschi Oh Quella là Perché non ho tolto la mira Perché Cioè, non è che l'ho tolta io Non la toglieva più Cioè, tipo, ero da pigiare Tremila volte sul mouse Il problema è che Lascio troppo Lascio troppo Lascio troppo Controattacco nemico Indietro Eh, ragazzi Ci rimane Credo che sia l'ultima trincea E poi abbiamo perso Credo Vediamo se è l'ultima trincea Proviamo Eccolo qua Che ci ammazziamo No Sembra non essere l'ultima trincea No, no, no Non è l'ultima Non è l'ultima Oddio Stralaggata Ritorniamo dentro Dentro qua Non so Perché sto parlando così Din din Cazzo 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 Ma perché sempre sto Fury No Fuciliare francese Mio Mio No Oddio sì Oddio sì Oddio sì Let's go Adesso Camperiamo un po' Cicchiniamo un po' Non è che questo fucile Fa veramente schifo Ma dire schifo è poco Oddio che lagga Andiamo un po' Indietro Lo sapevo Vabbè Eh venti Ventiquattor secondi Oddio Mi hanno punito Abbiamo fatto due kill Non è così tanto Ma dai Almeno Abbiamo sdurmato qualcuno Allora Hold your ground Sì sì ninja Sì Eh Respingere il nemico Grazie Dirlo così Dai però Orca minchia Vabbè ragazzi Io direi di finire Qua il video Ci sentiamo nel prossimo video Mettete like Commentate Eccolo va Certo eccerto Ci sentiamo nel prossimo video Ciao Aspettate Aspettate Dove arrivare dieci secondi Perfetto Ciao Aspettate Grazie a tutti.